Ma che succede? È tutto buio! Te lo dico io che succede, stiamo dentro un panettone! Levami un po' sta mano dal panettone! E adesso come usciamo di qui? E se ce lo mangiamo? Sì, così usciamo a Pasqua! Tocca scavare! Vedo la luce! Era ora! Finalmente! Mi mancava l'aria! Madonna, tutto pieno di canditi sono! Nevi! Ma adesso che finalmente siamo usciti da sto panettone, che facciamo? Vacanze ai Caraibi! Allora rientriamo e riusciamo a Natale? Torna il grande cinepanettone di Natale! Vacanze ai Caraibi! Con la regia di Neri Parenti! Con Cristian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Dalio Bandiera, Ilaria Spada e Luca Argiantero! A proposito, ci vediamo a Natale nelle migliori pasticcerie! I migliori cinema, che pasticcerie! Dai! Sorridi, sorridi, il cinema si rica!